Alta specialità chirurgica al Santa Maria di Terni, interventi di medio-bassa complessità negli ospedali di Narnia e a media, si apre così attraverso l'integrazione tra strutture la fase 2 dell'azienda ospedaliera di Terni e dell'USL Umbria 2 nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria Massimo De Fino ha firmato una delibera che, accogliendo le richieste della direzione ospedaliera di Terni, prevede di mettere a disposizione del Santa Maria 5 dipendenti ASL, due infermieri di sala operatoria e tre strumentisti attraverso l'istituto del comando.